Gentili telespettatori, buona giornata. Voi sapete che il centrosinistra detiene la leadership morale intellettuale, loro sono i buoni, i giusti, mentre nel centrodestra ci sono i cattivi, gli sbagliati, i razzisti e ignoranti, xenofobi, nostalgici imperialisti, fascisti, metteteci tutto quello che volete. Questo è quello che crede il centrosinistra del centrodestra. Voi direte ma è un po' una suddivisione un po' semplicistica, un po' superficiale, un po' senza fondamento. Sì, lo è, però questo è quello che realmente succede in Italia e in questa storia che vi racconto c'è tutto il senso di quello che vi dicevo. C'è la morte di una bambina a Sondrio, una bambina di 5 mesi, figlia di una nigeriana. Giorgia Meloni scrive su Twitter mettendo la foto di una culla, una foto qualunque, e è un articolo di leggo.it, condivide questo articolo che dice neonata di 5 mesi, morta in ospedale, le urla disperate della madre. Discritto la morte di una bambina di appena 5 mesi a Sondrio, una tragedia avvenuta sabato mattina ha sconvolto la zona. E lei condivide questo articolo di giornale e commenta, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Sondrio donna nigeriana derisa in ospedale perché urlava per la morte della figlia di 5 mesi. Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che si possa provare. Che schifo! Beh, assolutamente un post condivisibile al 100%, 100%. Giorgia Meloni mamma, anch'io sono padre, vi posso dire che quello che ha scritto Giorgia Meloni non fa una grinza, non c'è nulla che si possa commentare di negativo su questo post. Però attenzione, una gran parte dell'opinione pubblica, una gran parte delle persone, visto che Giorgia Meloni ha superato il 10% nei sondaggi, viene equiparata a Salvini, il tiranno. Quindi Giorgia Meloni, una tiranna, razzista, xenofoba, c'è tutto il repertorio di etichette che mette in maniera infantile tutta un'area politica sul centro-destra. Voi direte ma cosa possono aver detto su un posto del genere dove Giorgia Meloni dice che schifo che c'era gente in ospedale che rideva. Io mi ricordo che si diceva ma questi tanto ne sfornano altri. Quello è veramente razzismo. Questi ne sfornano altri come se fossero un qualcosa di stranamente lontano dall'essere umano. Quelli tanto ne sfornano altri. Questo è il razzismo che c'è. Non bisogna nasconderlo. In Italia c'è tanto razzismo. Razzismo che bisogna capire perché in Italia adesso c'è tanto razzismo. Prima il popolo italiano non era razzista. Non bisogna arrivare a conclusioni spicciole, semplicistiche, affrettate. C'è una valutazione abbastanza profonda che si può fare su questo argomento. Provate a immaginare perché in Italia gli italiani sono diventati razzisti. Non c'entra niente Salvini. Ecco, ve lo dico già di non c'entra niente Salvini. Non c'entra niente Salvini. Ma c'è a chi non è piaciuto il posto di Giorgia Meloni. Perché Giorgia Meloni e Salvini sono comunque il male assoluto. Loro sono sbagliati a priori. Qualsiasi cosa fanno è sbagliata, no? Solo perché sono nella centrodestra. E dicono, qualcuno gli dice, la tua solidarietà Meloni è solo da madre? Troppo facile così, no? Ed ecco la frase fatta. Siete voi con le vostre politiche fasciste a creare questo clima. Avete capito? È colpa della Meloni se in ospedale hanno deriso questa madre. Ma lei dice, quelli che contestano il mio diritto di esprimermi su un tema del genere sono degli imbecilli. Non ho mai alimentato un clima di razzismo. Sono pronta a qualsiasi confronto con chiunque. Su questo non troveranno mai una mia parola contraria ai diritti e al rispetto delle persone. E se ho fatto quel posto è perché non voglio ci sia alcuna ambiguità sul razzismo, nemmeno per il mio popolo e per chi mi segue. Per me il rispetto della persona, degli individui, dell'identità è totale. Ovviamente sì, non c'è nessuna parola che ha detto, nessuna fotografia, parola, opinione che abbia detto Giorgia Meloni che sia razzista o indirizzabile a quest'area di razzismo eccetera eccetera. Non c'è. Lei dice, sono pronta a qualsiasi confronto perché queste sono parole dette senza dei fondamenti, senza delle basi reali. Sono quei cliché, quelle frasi fatte che continuano a ripetere una certa area politica, come ad esempio quelle frasi fatte dalle sardine che dicono questo linguaggio aggressivo e di odio. Ma né Meloni né Salvini hanno linguaggio aggressivo e di odio. Su questo è dimostrabile perché provate a dimostrare che ci sia un linguaggio di odio e aggressivo. Non c'è. Bisogna inventarlo perché non c'è realmente. E Giorgia Meloni aggiunge, chi alimenta il razzismo è una sinistra che con demagogia il responsabile parla di accoglienza indiscriminata e scaricando poi il peso della gestione, dell'integrazione, della sostenibilità degli ingressi sui più poveri, sulle periferie, scatenando davvero fenomeni di intolleranza. Beh, quello che dice Giorgia Meloni è assolutamente corretto. Chi alimenta il razzismo è la sinistra, che è il responsabile. Parla di accoglienza indiscriminata senza che l'Italia possa integrare e accogliere queste persone. Sapete che con la disoccupazione che c'è, le case che costano una fortuna, i costi alti che ci sono in Italia per tutto, le tasse, l'Italia non è in grado di accogliere un miliardo di persone che arrivano da altri continenti. Quindi l'accoglienza indiscriminata poi porta che le stazioni sono praticamente dei dormitori di clandestini, i parchi sono dei dormitori. Provate ad andare a vedere i parchi di Roma e di Milano. È un qualcosa che io, cos'era, un anno fa, passeggiando, perché stavo andando a prendere il treno alla stazione di Ostia, in centro, non so come si chiama quella stazione, quella che c'è in centro, il parco di fronte è un dormitorio di clandestini che è anche pericoloso passare lì perché sono a volte ubriachi, ti guardano male, è una cosa abbastanza inquietante e questo è derivato dall'accoglienza indiscriminata che chiunque può entrare in Italia, pace e amore, tutti forza entrate perché sì. E così non funziona, perché poi si creano, si crea insicurezza nelle persone, le persone hanno paura e le persone poi diventano così, diventano così, perché prima gli italiani non erano così. Quindi attenzione, è un falso mito quello di dire è colpa di Salvini della Meloni per le vostre frasi di odio, perché loro non hanno frasi di odio, le frasi di odio sono da un'altra parte. E voi sapete quale parte. Poi Giorgia Meloni continua e dice le battaglie contro il neocolonialismo per la difesa di ragazze nigeriane portate qui senza controllo e poi lasciate in mano ai racket della prostituzione, le ho fatte io, non altri. Razzista è chi non si pone questi temi come cruciali. Per questo trovatemi una parola sbagliata da me pronunciata e poi ne riparliamo. Con una società fuori controllo che arriva ad agire in maniera vergognosa contro una donna che perde il figlio, io non voglio avere nulla a che fare. Quindi il monito di Giorgia Meloni è verso questi commentatori e anche verso il suo popolo. Dice attenzione, il partito non è un partito razzista, che sia ben chiaro anche al mio popolo, ai miei elettori, a chi mi segue. Razzisti non ne voglio, non ne voglio sentire parlare. C'è anche da dire che non bisogna dare retta ai leoni da tastiera, ai frustrati dietro un computer, a sconosciuti che insultano. Non bisogna farci caso. Attenzione, ma sapete quanti insulti ricevo io tutti i giorni? Io non ho né tempo né voglia di andare a vedere sotto i video quello che commentano le persone. A volte, per sbaglio, nella community trovo qualcuno che mi insulta gratuitamente, senza nessun fondamento, senza nessuna base, in maniera di livello molto basso, persone anche di livello basso, proprio culturalmente, che con frasi sconnesse ti insultano senza sapere, senza quelle frasi che non hanno né capo né coda. Vabbè, io se per sbaglio li vedo, che faccio? Li occulto dal canale. Si dice così, occultare la persona dal canale. La persona rimane iscritta, può vedere i video, ma quando commenta e schiaccio invio, il commento non si registra. Quello, l'unica cosa. Ma non sto né a rispondere né niente, ma neanche me la prendo, ma neanche leggo realmente, comincio a leggere la frase e poi blocco subito la persona. Non sto neanche a finire di leggere la frase, a prendermela per degli sconosciuti che ti insultano. Ma che mi interessa? Io lo dico anche a Giorgia Meloni, non stare a guardare quello. Tu come persona pubblica, perché è una persona pubblica, Giorgia Meloni, pubblichi in Twitter, in Facebook e poi non stare a guardare cosa commentano gli altri. Tu fai la tua pubblicazione, scrivi quello che ti sembra giusto, basta. Tu hai comunicato, in quanto persona pubblica, hai comunicato un messaggio che vuoi mandare, vuoi mandare, non al tuo elettorato, a chiunque voglia leggerlo. Poi non ti curare assolutamente di quello che scrivono sotto. Lascia perdere. È una battaglia persa. È una battaglia persa. Non puoi neanche stare a contestare a chissà chi c'è dietro quel computer che può essere una persona con problemi, può essere una persona cattiva, può essere una persona che non ragiona, può essere una persona estremamente aggressiva. Non serve che tu, persona pubblica, ti metti a rispondere a queste persone. Non serve. Ma neanche pubblicamente. Lascia perdere. Tu pubblica e basta. Ci sono molti influencer, persone che lo fanno come lavoro, di influencer, che loro pubblicano e poi non vanno a vedere cosa scrivono sotto le persone arrabbiate. Lascia perdere. Se tu sei a posto con la coscienza non devi giustificarti a nessuno. Non devi giustificarti a nessuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in internet, cioè in Facebook, nella pagina Tele Italia Notizie, dove trovate tutti i nostri video che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.